Un'indagine è nata da una vostra iniziativa che ha portato a quattro provvedimenti di custodia cautelare due indagati a piede libero. Ce la puoi spiegare? Sì, nasce da voci raccolte nell'ambiente di un bar di Faenza che riguardavano un giro di sostanze stupefacenti all'interno di questo locale pubblico. L'indagine è divenuta subito molto più seria perché in questo gruppo di persone erano coinvolti due carabinieri che poi sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare. Due carabinieri di Faenza? Due carabinieri del radiomobile di Faenza. Questi due individui si sono rivelati spacciatori e consumatori di cocaina? In particolare uno è accusato di spaccio consumatore e è accusato anche di aver spacciato la stessa sostanza stupefacente per potersene approvvigionare. Il secondo militare è accusato di favoreggiamento. Le altre due persone invece chi sono? Le altre due persone sono i fornitori della droga, sono un incensurato ed una persona già nota alle forze dell'ordine che noi accusiamo di essere i fornitori della sostanza stupefacente. In più c'è una terza persona, una ragazza? Sì, abbiamo precisato con il procuratore della Repubblica, c'è un altro militare che è prevalentemente consumatore e poi una ragazza che è coinvolta in episodi di spaccio ma è prevalentemente una consumatrice, per cui per loro i provvedimenti sono decisamente più leggeri.